Ciao a tutti i bastardi, oggi siamo qui per farvi l'Adalet by Monscine l'Adalet, il The King Adalet che dovrebbe essere in collaborazione con Fabrizio Corona Quindi signori, dovrebbe sapere questo Adalet di Arancia sanguinella dolce, pesca bianca e fresco, con una nota di prosecco Fresco, e fresco, ricordiamo, ciao Davide, salutiamo Ciao Davide, Davide sei fresco, sei freschissimo Lo proviamo su The David SQ, però prima lo lasiamo Coi complessa da prima, 032, bastardi, 48 watt Pesca bianca, la pesca bianca si sente Io sento tutte le notte, allora sento bene, sia il pungente dell'arancio Sento solo pesca bianca, l'arancia sanguinella e la pesca Diciamo che è un 20 ml di aroma, quindi dovete farvelo voi con il VG e la vasetta Oh yeah, oh yeah Sai che io ci sento un profumo di polvere? No, io non sento niente, il mio naso non sente niente Com'è Stefanello? Tu che lo stai scivappando, buono, buono Tanto anche, ha riposato un tre settimane buone, quindi sarà pronto Tre settimane tutte, l'ho fatto il 25.05 Allora, in ispirazione avete un mix di, questa arancia sanguinella vi dà un doppio gusto Sia il dolce dell'arancia sanguinella che leggermente asprino della buccia Poi arriva la cremosità della pesca bianca Buono, e l'ice? L'ice è impercettibile, sembra che voi avete preso l'arancia e la pesca e le avete tirate fuori dal frigo Li mangiate dentro alla Macedonia E' proprio impercettibile, queste sono le dosi di ice che dovete mettere nei liquidi estivi Mannaggia! Allora, è veramente un ottimo liquido, sicuramente all day Perché non è molto potente la situazione qua L'ice c'è ma non è per niente forte C'è solamente quella punta che vi dà un po' di fresco Io sento bene la pesca bianca e meno l'arancia Nel complesso è veramente un liquido buono E la nota di prosecco o vino bianco si sente in aspirazione o buttandolo fuori Pochissimo, molto poco Diciamo che è quell'amarognolo che poi ti rimane un po' in bocca Miscelato con i due frutti Certo Buono A me piace Mi piace, questo qua mi piace Gli do un otto e mezzo Nove Non è stucchevole, è buono Va benissimo anche tutto il giorno come hanno detto loro Io gli do un bel otto e mezzo Il nove non glielo do per il fresco Anche se è poco Anche se è poco Però è fresco Quindi signore provatelo Chiamate Corona che ve lo dà lui Adesso non sappiamo dov'è in questo momento però Ve lo dà lui Provate i liquidi di monscine Provate anche questo qua perché spacca Se vi piace il video è piaciato e condividete Ma soprattutto iscrivetevi al canale Ricensiteci su Flavorito.it E ci vediamo al prossimo video Che non si sa qual è Con l'ultima svappata del visello Ci vediamo al prossimo video Va bene, ciao 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 Ciao